Il parco produce è un'altra realtà operativa ormai da oltre un decennio che praticamente ha messo a sistema tante piccole, piccolissime aziende dell'area montana. Naturalmente sono tutte caratterizzate da una produzione prevalentemente o quasi esclusivamente biologica proprio perché questo contesto non ha mai conosciuto l'agricoltura industriale e quindi noi si parte dal presupposto che si guadagna quello che non si spende. Fare ricorso quindi a prodotti chimici antiparassitari o fitosanitari sarebbe una spesa inutile oltre che una contaminazione di quest'ambiente assolutamente integro e quindi ecco il valore proprio delle nostre produzioni alimentari risiede proprio nella assoluta genuinità di questi prodotti. Il parco produce è stato anche fondamentale dopo il terremoto del 2009 perché ha consentito di creare una grande ricchezza di relazioni con i gruppi di acquisto solidale che attraverso la predisposizione di pacchi famiglia di offerte diversificate di produzioni che vanno dai formaggi a cereali, legumi e comunque prodotti tutti tipici di questa montagna ha consentito alla microeconomia di questo territorio di subire il meno possibile lo stress legato da un evento così luttuoso. Questo ha funzionato molto bene tanto da creare dei legami assolutamente stabili con questi gruppi di acquisto solidale che come sappiamo è una nuova frontiera dell'economia sostenibile proprio perché valorizza il concetto del chilometro zero quindi del rapporto diretto fra produttore e consumatore e consente quindi una tracciabilità reale del prodotto sapendo potendo constatare anche sul terreno come questi prodotti vengono ottenuti qual è la schiettezza dell'offerta proprio perché il settore commerciale ha la capacità di creare delle immagini spesso molto fittizie finalizzate proprio ad esigenze puramente commerciali che non rispondono chiaramente alla realtà dei fatti. Ecco, mangia sano, torna alla natura può essere uno slogan sicuramente d'effetto che però insomma va verificato sul posto per vedere quanto a questo slogan possa corrispondere un elemento di assoluta veridicità. Grazie a tutti!